Quando si avvicinava la fine del mese il nonno perdeva il suo solito buon umore e sembrava ancora più vecchio, curvo e stanco. I suoi capelli sembravano ancora meno e le rughe sul suo viso sembravano ancora più profonde. Alla fine di ogni mese un uomo veniva a riscuotere l'affitto e in previsione di ciò il nonno stava fuori casa molto più a lungo per cercare di raccimolare i soldi necessari. Potrei avere un piccolo sconto, supplicò il nonno il quarto mese. Ora ho due nipoti a cui badare. No, rispose l'uomo venuto a riscuotere. Era alto quanto il compagno di ragia ma muscoloso di palestra. Il torace è largo come una botte e le braccia come prosciutti, la pelle è bianca come la carta, i capelli biondicci, dal taglio militaresco rasati ai lati della testa e appena più lunghi sopra, abbastanza radi da mostrare il cranio. I suoi occhi avevano un taglio stretto ed erano di un azzurro slavato e aveva un pesante accento dell'est. Pagate già poco, disse, ma il tanto e il poco sono una cosa relativa che dipende da quanto ne hai. Vi prego, disse ancora il nonno. La sua voce era come un belato di pecora, ma l'uomo venuto a riscuotere non si commosse e gli sferrò un pugno che lo fece piombare a terra con un labbro spaccato e un dente in meno nella sua bocca, già mezza sdentata. Kobi e Tei raccorsero dal nonno come se potessero aiutarlo. «Non mi piace fare del male a dei ragazzini», disse quella montagna d'uomo, «ma nella mia vita ho dovuto fare molte cose che non mi piacciono». Il nonno si alzò in piedi tremante. Senza dire altro si estrasse di tasca i soldi e li consegnò al grosso uomo minaccioso che quasi riempiva la sagoma della loro porta. L'uomo contò il denaro due volte, facendo scorrere le banconote tra le dita grosse. Andata e ritorno. «Tutti dobbiamo pagare qualcuno», sentenziò una volta verificato l'ammontare. «Finché tutti pagano le cose vanno bene, ma quando qualcuno inizia a non pagare i problemi diventano tanti quanti sono gli anelli di una catena». Ciò detto si voltò e se ne andò. La sua camminata contarita da quella molle di muscoli sembrava quasi artificiale. Kobe e Tahir aiutarono il nonno a raggiungere il divano e a sedersi. «Perché hai rischiato per i soldi?» domandò Kobe, guardando il nonno con sconcerto e incomprensione. «Hai quei soldi che ci hai fatto vedere nel cassetto». «Perché il nonno è vecchio e un giorno potrebbe succedergli qualcosa. Quei soldi li sto mettendo via per voi». «I soldi messi da parte non vanno mai toccati, altrimenti finiscono in un attimo». Rispose il loro vecchio nonno acquisito, con la sicurezza di chi ha già compiuto in passato quel tipo di errore. «In un attimo» ripetè, rendendosi pienamente conto solo in quel momento di quanto fosse stato egoista da parte di un uomo così anziano adottare due bambini. Ma per quanto si possa essere vecchi e macilenti è comunque difficile ficarsi in testa la reale consapevolezza che il proprio tempo stia davvero per giungere al termine. Forse li avrebbe adottati qualcuno più giovane, un papà e una mamma, pensò con rimorso, magari italiani. Il sole era alto a picco nel cielo quando accadde, al termine di una rovente mattinata dei primi di luglio, che il nonno aveva trascorso arrancando avanti e indietro attraverso la spiaggia lunghissima, tra quella selva di ombrelloni con la stoffa a cerchi concentrici bianchi e azzurri, nel tentativo di raccimolare qualche soldo. Aveva appoggiato la sua mercanzia sulla sabbia, la bacheca con braccialetti, con lanine, fular, occhiali e altra paccottiglia, più per riposarsi un po' che per la speranza di vendere qualcosa. «Vo comprato» mandò canonicamente alla balneante una signora sulla cinquantina che si faceva aria con un ventaio e che cercava in vano di godersi l'ultimo giorno di ferie, prima di far ritorno a quel carnaio quotidiano che è il lavoro all'ufficio postale. «Eh no, ancora!» esclamò quella, allargando le braccia in un gesto di sdegnata esasperazione. «Siede già passati in quattro stamattina!» «Compra, compra braccialetti belli, prego, io ho cinque figli da mantenere!» mentì il nonno. «Sembrate un po' vecchio per avere cinque figli da mantenere!» costatò il marito della donna, spuntando dal profilo della moglie e sollevando il naso dalle parole crociate. «Dica ai suoi figli di trovarsi un lavoro!» «Noi ne abbiamo uno solo di figlio!» aggiunse la donna, sventaiandosi al ritmo crescente della sua arrabbiatura. «Mantieniteli da soli, tuoi cinque, e che cavolo!» Il nonno crollò giù in ginocchio. Le immagini si appannavano e si capovolgevano davanti ai suoi vecchi occhi sbiaditi. «Per favore, per favore, prego!» «No, non cominciate a fare così, che non attacca!» esclamò la donna, con la vocetta stridula che le usciva ogni qualvolta, uno degli infiniti seccatori che si aggiravano per il mondo, le faceva perdere la pazienza. Il suo serafico marito aveva già fatto ritorno alle parole crociate. «Dodici verticale, cinque lettere!» «Lo è chi non vive più!» «Chiamate un dottore, prego!» supplicò il nonno, stringendosi una mano al petto e crollando poi di lato sulla sabbia coccente. La donna saltò in piedi dall'asdraio urlando aiuto e così pure suo marito. Tra le persone in spiaggia era presente una giovane dottoressa che accorse subito. Mentre i presenti chiamavano il pronto soccorso e si ammucchiavano intorno all'uomo morente senza sapere che cosa fare. Anche la dottoressa poteva fare ben poco. Sia il massaggio cardiaco che la respirazione artificiale non servirono a nulla. Ogni cura, per quanto tempestiva, sarebbe stata inutile. Il cuore di quel vecchio uomo si era spaccato e questo è quanto. Intanto, mentre il nonno stava morendo, Teire e Kobe stavano disobbedendo alle sue raccomandazioni. Non era la prima volta in cui disobbedivano al nonno. I due fratelli uscivano dal loro appartamento assecondando quel desiderio esplorativo e di crescita che accomuna probabilmente tutti i bambini e i ragazzi del mondo. Fatto di piccole disobbedienze, ogni volta un tantino più lunghe e sfrontate delle precedenti. Quella volta Teire aveva anche trovato il coraggio di bussare all'appartamento dove viveva Nina. I due fratelli rimasero in attesa davanti alla porta. Alla fine, la madre di Nina gli aprì. Reggeva in braccio un bambino attaccato al suo seno. La donna non fu sorpresa di quella visita, ne fu seccata. «Che volete?» domandò con voce da strega. «C'è Nina?» domandò in risposta a Teire. «No», disse la donna, «Nina è al lavoro». Infatti Nina era in città, vestita nei suoi abiti più stracciati, a tendere la mano verso i passanti, supplicandoli di darle un euro in elemosina. I bambini suscitavano compassione e raccimolavano bene, e le bambine ancora di più. Ma non bisognava esagerare, tipo metterle in braccio un fratellino piccolo. In un paesello di provincia, troppa compassione avrebbe aumentato il rischio di un intervento della polizia, o di qualche buon sammaritano di passaggio, o di un assistente sociale. «Che cosa vuoi da lei, negretto?» gli domandò la madre, con un lampo di ostilità negli occhi. Spiazzato, Teire non trovò nulla da ribattere a quelle parole, e la madre di Nina richiuse loro la porta in faccia, senza aggiungere altro. Teire espresse quel che pensava, tirando un calcio allo stipite. Poi acchiappò Cobi per mano, tracinandoselo appresso, prima lungo il corridoio, poi su per le scale. Il palazzo sembrava un groviglio enorme, interminabile di corridoi, scale e porte, che si ripeteva all'infinito. Era tutto uguale, fatta eccezione per la roba che si poteva trovare accatastata qua e là, per le macchie sui muri e per le persone che vi si aggiravano. Eppure i due fratelli avevano come la sensazione che ci potesse essere qualcosa di eccezionale da scoprire dietro ogni angolo. Quel giorno, complice la rabbia suscitata in Teire dalla madre di Nina, si erano spinti fino all'ultimo piano. Là in cima, un'ultima rampa di scale, più stretta delle altre, conduceva fino a una specie di scapuzzino che si apriva sul tetto. I due fratelli, mossi dalla sete di avventura, sarebbero sicuramente arrivati fin lassù. Avevano dimenticato che il mondo può essere un posto pieno di pericoli, ma un uomo li aiutò a ricordarsene. Li acchiappò per le spalle e li scaraventò a terra. Era un tunisino. Non era grosso come l'uomo che veniva a riscuotere ogni mese. Tutt'altro. Era ad una magrezza emaciata e non tanto alto, cogli zigomi che spuntavano dalle guance scavate come se fosse malato. Eppure, in qualche modo, era ancora più minaccioso di quell'energumeno. Ricordò loro l'uomo che comandava nella barca con la quale avevano navigato verso l'Italia fino al naufragio. Il suo sguardo era identico, però c'è privo di remore. Spaventoso, certo, ma anche invidiabile. Di cosa poteva aver paura un uomo come quello? Di nulla. Qui non si può stare, disse il tunisino. Cosa volete? Niente, rispose Tahir, mettendosi davanti a Kobi, protettivo, come ogni bravo fratello maggiore. L'uomo incombeva su di loro. Volete comprare la roba? No, rispose Tahir. Il tunisino si grattò la faccia con le unghie. Pensieroso. Poi sorrise. Si portò una mano in tasca e ne strasse una bustina piena di una polvere tra il bianco e il giallastro. Avete mai preso questa? Con questa vi sentite forti come leoni e ogni cosa che vi fa tristi scompare. Basta che la portate al vostro naso e respirate forte, disse e rise. Non abbiamo soldi, non abbiamo soldi, rispose Tahir, ma il suo pensiero era in qualche modo corso ai soldi che il nonno conservava per loro in un cassetto. Qualcosa dentro di lui, qualcosa che non sapeva esistesse, che non riusciva minimamente a comprendere, bramava quella roba, ma ripetè che non avevano soldi. Il tunisino le fissò come se potesse vedere all'interno delle loro teste e scoprire se erano sinceri. Le sue labbra si allargarono, trasformando il suo sorriso in una specie di chigno. «Sono generoso e vi regalo una dose», disse e allungò un braccio per porgerla a Tahir, che rimase immobile. Aveva quasi paura che se avesse allungato una mano verso quella bustina, l'uomo davanti a lui gliel'avrebbe tagliata. «Questa la offro io», insistì il tunisino e marcò le parole con una voce che sottintendeva un ordine. Tahir obbedì. Lentamente protese la mano verso la bustina e la prese senza che gli accadesse nulla. «E ora andatevene e non fatevi più vedere qui se non volete comprare la roba», disse il tunisino. La chiamavano sempre roba, oppure coca o ero o neve o even o polvere o ecstasy o con un sacco di altri nomignoli fantasiosi. ma mai col termine di droga. I due giovani esploratori se la didero a gambe lungo il corridoio e poi giù per le scale. Sia coraggio che desiderio di avventura erano scivolati via da loro. Al termine di una corsa a perdifiato si rintanarono nel loro appartamento. Tahir aprì la mano in cui stringeva ancora la bustina. Il nonno aveva dedicato la maggior parte dei suoi sforzi educativi contro la droga. Con il tono solenne che utilizzava ogni volta che voleva dare loro un insegnamento importante. Un po' come un prete nel momento della predica. «Il mondo è pieno di gente che vende quel veleno che è la droga» diceva. «Non prendetela mai, bambini. Mai, 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 mai. Nemmeno se uno ve la offre senza soldi. La droga rovina le cose più importanti che avete. La vostra testa» dicendo queste parole aveva posato una mano sulla testa di Kobi e l'altra sulla testa di Tahir. e il vostro cuore aveva aggiunto poggiando poi le vecchie mani venose sui rispettivi petti dei nipoti acquisiti. Eppure, nonostante gli accorati insegnamenti del nonno, quella bustina e le parole di quello sconosciuto avevano fatto scomparire tutto il resto. Quella polvere proibita sembrava magica. Sembrava che avrebbe realizzato davvero quelle promesse oppure tutto il contrario. Anche questa seconda ipotesi sembrava andare bene uguale e pazienza se per distruggere il malessere era necessario distruggere anche tutto il resto. Vivere istillava nella mente una malattia di sofferenza e la droga era il rimedio più semplice. Le radici del consumo di droga stavano proprio in questo come un destino scritto sul fondo di un animo triste. I due fratelli si posizionarono in balcone seduti a terra l'uno di fronte all'altro con le gambe incrociate. Tahira teneva sollevata la bustina tra pollice e indice. La luce che vi filtrava attraverso rendeva un po' traslucidi alcuni di quei piccoli cristalli. il nonno ha detto che non dobbiamo prendere queste cose disse Kobi in quel momento udirono una forte folata di vento e Tahira si sentì come scosso da un'ipnosi. Putta la via fratellone lo supplicò Kobi Tahira richiuse la mano sulla bustina e la gettò oltre la ringhiera del balcone la osservarono cadere da otto piani sballottata dal vento finché non divenne troppo piccola per poterla seguire con lo sguardo. Successivamente quando sarebbero venuti a conoscenza di quanto era accaduto Kobi avrebbe pensato che quel soffio di vento era stato provocato dall'anima del nonno che saliva in cielo quella folata di vento era stata l'ultimo aiuto che aveva potuto dar loro. i due fratelli erano appena rientrati dal balcone quando sentirono un gran trambusto lungo il corridoio poi qualcuno si mise a bussare come un forse nato alla loro porta e urlare bambini bambini era la voce di Said l'anima del